Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Max e lo so non si fa altro che parlare di questo benedetto caso Totti Blasi, di questa separazione perché dietro c'è grande curiosità intorno alla vita dell'ormai ex coppia. Nelle ultime ore era emerso che l'ex calciatore, detto anche in una notizia precedente, fosse in vacanza insieme al figlio Christian e due amici a Sabaudia dove ha trascorso un weekend meraviglioso. Ora invece si è saputo dove si è recata e con chi la condottrice dell'isola dei famosi, la quale non si è nascosta e ha pubblicato anche diverse foto sul suo profilo, quello ufficiale, Instagram. Un modo, diciamo, per estraniarsi. Infatti Hilary per questa nuova vacanza estiva non ha scelto l'Italia ma ha deciso di fuggire all'estero nella speranza forse, forse, di non essere disturbata dai paparazzi e dai fai incuriosi, che comunque secondo me partiranno lo stesso insieme a lei. Ha preferito portare alcune immagini di sua spontanea volontà e da queste si evince sicuramente un momento di totale relax da parte della donna che sta cercando in qualche modo di riprendere in maniera graduale la sua quotidianità. In attesa delle prossime settimane è quando, insieme agli avvocati, dovrà in qualche modo trovare un accordo di separazione con Totti. Dalle istantanee pubblicate da Hilary si è potuta conoscere la località scelta per la sua nuova vacanza, sicuramente una delle ultime di questa sua estate prima di tornare alla vita lavorativa, perché vi ricordo che settembre si avvicina, settembre è molto legato ai programmi tv, quindi in qualche modo questi saranno gli ultimi scoccioli di vacanza per lei. Certo, per l'Isola dei Famosi manca ancora un bel po', ma non è da escludere che possa organizzare qualcos'altro come, ad esempio, un'apparizione televisiva per parlare dell'addio di Totti. Si è vociferato della sua eventuale presenza verissimo dall'amica Silvia Toffanin o al programma belve di Francesca Fagnani. Vediamo se poi uno dei due programmi diventerà effettivamente fattibile. Dunque, Hilary Blasi ha lasciato l'Italia per godersi appieno la Croazia. Ha fatto intravedere la sua presenza a bordo di una barca per gustarsi le acque belle, quelle cristalline croate, rilassarsi in maniera totale. E non è da sola, ovviamente. Infatti, insieme a lei c'è pure la figlia Isabel, che lei ha fotografato. Per quanto riguarda il suo outfit, nella foto in cui si è fatta vedere di spalle aveva un costume di color viola con un copricostume bianco e il suo sguardo era proiettato esclusivamente verso il mare, in cerca, forse, di pace. Comunque sia, il Corriere della Sera ha rivelato che Hilary avrebbe individuato il suo nuovo alloggio, dove andrà a vivere in futuro. La casa dei famigli arresterebbe ai figli Christian, Isabelle e Chanel, come dovrebbe essere di norma, con Hilary e Totti che dovranno in qualche modo darsi il cambio. In più, si parla di un accordo milionario riguardante l'assegno di mantenimento, ma di questo anche ne riparleremo più avanti. Per ora è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!